Sabato 7 novembre l'On. Micaela Biancofiore ha presentato il suo romanzo Il cuore oltre gli ostacoli, la mia storia, al Lago Negro, nella cornice del Mona Lisa Museumo, presso Palazzo Corrado. L'On. Biancofiore, personalità dotata di riducibile determinazione, si racconta per la prima volta senza remore, con la schiettezza che la contraddistingue, realizzando uno straordinario autoritratto di donne parlamentare, che guidata da una forte passione per i sentimenti e per la politica, ha gettato più volte nella vita privata e nel lavoro il cuore oltre gli ostacoli. Il romanzo, edito da Mondadori, ha avuto in tutta la penisola numerose critiche positive. Sabato sera, nella cittadina Lagonegrese, oltre ai numerosi lettori, insieme all'autrice erano presenti l'avvocato Cataldo Calabretta, moderatore dell'incontro, e l'onorevole Cosimo Latronico, intervenuto nel corso del dibattito. L'evento è stato organizzato dal Gale La Cittadella del Sapere e dal Mona Lisa Museum.